Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud e ralentamenti tra Calenzano e la variante di Valico per traffico intenso. Sulla FIPILI, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, personale su strada per lavori in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Betolle, riduzione di carreggiata per lavori tra Castiglion del Lago e Ponte San Giovanni in entrambe le direzioni. Sulla Statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata per lavori tra l'incrocio della variante di Quercianella e l'incrocio di Stagno in direzione Genova fino alla mezzanotte di domani. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!